Siamo dati di Gesù e Maria, tutte e due le letture che abbiamo ascoltate sono il seguito delle storie dei carissimi di Pede Ieri e abbiamo visto l'omicidio perpetuato da Napoli sulle spiegazioni di Gesabelli, il falso processo contro questo poveraccio, scusate Haka ma l'avevo detto con il suo nome di Gesabelli, contro questo poveraccio di Napoli per infiluppargli la vigna paterna, uno voleva in teologici e al seguito nostro signore chiama Elia e lo fa andare a incontrare proprio nel punto dove, nel momento in cui stava prendendo possesso di questa vigna, e adesso che potremmo fare? Guarda che il signore ha visto tutto quello che ha fatto, e dice, beh il signore ha deciso che questa volta non può restare a guardare, adesso succederà questo, 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 questo e questo, quindi vedete che questo è già un prego per il Vangelo, ho detto già altre volte che qui si è voluta, che Dio giustiziarà sempre, a volte la fa anche su questa terra, sempre la fa, almeno nell'altro mondo, che succede? Questo, va bene, se questo fa penitenza, digiura, si mette il sacco, l'altro fatto, si colica con il sacco, si straccia le veste e cammina a testa di massa, fa penitenza, seguendo tutti, ne ha avanti a tutti i colori, eh, perché Cezanne era un demone incarnato, la moglie di questo qui, era entro, una delle donne più cattive, conosceva la storia sacra, cosa fa? Dio correggere, bene, noi le mando la sciatura durante la sua vita, poi le lo mando durante la vita del suo figlio, mitica, quindi, insegnamento della prima lettura, chi fa male, lo stiamo assiando da quelli che Franca non la farà, d'accordo? Se si mette e ripara, il nostro Signore è disposto ad usare le mensa, ma quel pentimento è un po' la penitenza, se no con le mensa non ci sta, quindi questo era vero, ieri come oggi. Questo ci aiuta anche ad entrare nel passo naturalizzato di oggi, come Gesù ci dice di amare i nostri nemici, pregare per i versi motori. L'abbiamo accettato tutto ieri, qual è il motivo di questo comandamento? È che ogni essere male, in quanto tale, è amato, da Dio, è accostato, salva, fa Gesù. Se una persona fa il male, è cattiva, ha doppiamente bisogno di essere amato, perché diventi buona, perché se continua ad essere cattiva, andrà a farlo a punta fine. Quindi, come ieri Gesù ci diceva il negativo di questo comandamento, non opponetevi al malvagio, oggi non basta non porsi al malvagio, non bisogna di cambiare il male col male, ma bisogna di cambiare il male col bene, perché amare significa fondamentalmente fare del bene. Quindi che significa? Sai che c'è qualcuno che ti ha fatto del male? Anche lui, ha messo una chiacchiera, una calunnia, sparo la male dentro in giro? Bene. Se è possibile, fai una gentilezza, vieta a prendere il caffè, non è che ci ho avuto fatto su questo branchetto. O se ti capita di rimanere qui, parla con me, e ti guarda, sai che ha fatto questa cosa bella in giro? Basta fare questo qui. Gesù fa un esempio anche, no? Dice, dare il saluto. Sapete, quando noi sappiamo che c'è qualcuno che ci ha fatto qualcosa, la prima cosa che esse fanno, non ci parlo più, e se non contano manco lo saluto. Gesù stesso spiegare. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa guarda di stavolta, le fanno così anche i pagani. Quindi che ci vogliono? Dio buongiorno? Dio buongiorno? Non risponde? Peggio. Tu hai messo in pratica il Vangelo. D'accordo, quindi non è che è sempre possibile fare chissà cosa, no? Quelli che ci perseguitano, quelli che ci trattano male, o ci vivono un sacco di calunni, perché cerchiamo di essere vederli al Signore. Questo succede. Pregate per loro. Come hanno fatto tutti quanti i santi. Santo Stefano è stato martire, morto, pregando per quelli che lo stavano abitando, invocando la misericordia per loro, il Signore nemputare dopo questo peccato, pregando per la loro conversione, che riconoscesse anche loro che Gesù è il figlio di Dio. Oltre volte chi ci perseguita pensa anche di fare qualcosa di buono, anche che pensa ad averci ragione, quindi c'ha anche la buona fede. E allora per la nostra preghiera possiamo tenere la luce a questo fratello, a questa sorella, perché possa comprendere che sta sbagliando. Quindi ecco il modo divino in cui Gesù vuole che i suoi discepoli agiscano, no? Dice, guardate, se fate diversamente, se amate quelli che vi amano, lo fanno pure i pubblicani, i pubblicani, i grandi peccatori del tempo. Quindi, perché tutti vogliono bene a che vi vogliono bene? Se date il saluto soltanto ai vostri paterni, lo fanno pure i pagani, cioè quelli che siano senza Dio, i romani, che cosa c'è? Che cosa parte di sta? A voi siete discepoli? Niente. E io cosa faccio? Dalla vita con quelli che sono martini. Io sono morto, morirò in croce pregando per quelli che mi s'hanno messo, d'accordo? Continuerò ad essere a farmi ricordiare con tutti. Gesù era a farmi ricordiare anche con i fari segni, insomma, se volerà di pazienza, poter essere a farmi ricordiare anche con loro, d'accordo? Sempre. Quindi mantenendo sempre questo stile, se gli altri fanno male, ci dispiace, d'accordo? E noi non facciamo giustizia e non scegliamo mai a livello. Se poi queste persone non si convertono e non cambiano, dovranno fare due ghiacchiere con la giustizia di Dio. Ma noi lasciamo sempre che la giustizia sia qualcosa di cui si occupa, il nostro Signore. Passo per l'ora di Luca, Gesù dice queste parole, dovete essere misericordiosi con tutti per ottenere misericordi, perché se tu cominci a dire, no, questo ha fatto questo, questo lo deve pagare, Gesù dice, con la misura o misurate, sarà misurata poi in cambio. Quello lo deve pagare, beh, quanti peccati hai fatto tu in vita tua? Se il nostro Signore dice, allora paga quello e paghi quello tu, va bene, e se non paghi tu, non paga manco quello. Questo Gesù ce l'ha messo in bocca con la preghiera del Padre Mosco. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E poi alla fine del Mangiato spiega, se voi non perdonerete agli uomini, quindi a chi vi ha fatto del mare con colpe, mio Padre non perdona anche ai nostri debitori. Quindi il fondamento del Mangiato non è soltanto la parola e la volontà di Gesù, ma anche l'esempio che Gesù ha dato e di cui ci invita a prendere atto, seguendo. Bene, abbiamo lì a Santissimo, ci aiuti ad essere a dare sempre questo cuore clemente, ad imitare, diciamo, i sentimenti del cuore Santissimo di Gesù, che non vuole, ecco, la morte definitiva del peccatore, ma che si converta, si prenda del cane che ha fatto, comprenda, e viva, aiutato in questo, anche dal nostro amore misericordioso, che si estende anche a quello che ci hanno fatto o ci stanno facendo del mare. Siamo notati Gesù e Maria. Sempre, signora. Grazie. 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 Grazie.